Sono contento di dire una parola sul beato Vincenzo Grossi, che sarà canonizzato il prossimo 18 di ottobre da Papa Francesco, nel contesto del Sinodo dedicato alla famiglia. E sono contento di dire questa parola oggi, nel giorno della Madonna del Rosario. I misteri di Cristo ci insegna Maria quando la preghiamo col Rosario. I misteri della luce che ci è data sia nella gioia sia nel dolore, grazie a Cristo. I misteri che ci conducono alla gloria. Il beato Vincenzo Grossi ha avuto sempre come compagna di viaggio, come Madre Santa, la Vergine Maria. E unito a lei ha saputo assimilare, proprio grazie al Rosario, i misteri di Cristo. E ha fatto dell'Eucaristia alla quale sempre ci conduce il Rosario. E dalla quale parte la nostra preghiera del Rosario per tenere nel profondo del cuore l'incontro eucaristico con Cristo. Ha fatto dell'Eucaristia il centro della sua vita. E la gioia che chiedeva sempre a tutti, specialmente alle figlie dell'oratorio che egli ha fondato, veniva da questo incontro insieme a Maria con Cristo nel mistero eucaristico. Chiediamo a lui, per tutti i cristiani, di ritrovare se stessi incontrando Cristo insieme a Maria nel mistero eucaristico. Un cordiale saluto e ben ritrovati a Laos. In questa puntata continueremo ad approfondire la figura del Beato Vincenzo Grossi che il prossimo 18 ottobre sarà proclamato santo a Roma. Nella precedente puntata abbiamo parlato di Don Vincenzo Parroco, il fondatore. In questa invece puntata, sempre dalla Casa Madre Generalizia, parleremo dell'Istituto in Terra di Missione. Suora Anna Maria, dove siete presenti? Siamo presenti in Argentina e in Ecuador, specialmente a Caseros, di Buenos Aires, a 9 di luglio sempre di Buenos Aires, alla guarderia, una succursale della casa di Caseros, a Quito. Queste sono le tre comunità. Come si articola la vostra attività in questi posti? È sempre riguardante la formazione e l'educazione. Soprattutto siamo accanto ai sacerdoti nelle parrocchie, con tutte le espressioni che la parrocchia può presentare, può offrire alla popolazione. Soprattutto la catechesi, i centri di formazione, i centri di assistenza, come la Caritas, le guarderie, i logar, come abitualmente si chiamano in Argentina. Quali sono oggi le più grandi sfide da affrontare? Le sfide sarebbero parecchie, però noi essendo nel campo sempre della formazione, è portare avanti la persona di Gesù. È molto difficile, però penso che la continuità, la testimonianza siano il fondamentale per questa gente. E' con noi anche Suor Giuseppina in Italia, proprio in occasione della prossima canonizzazione. Da dove arriva? Io arrivo dall'Argentina e vengo dalla provincia di Buenos Aires. Da quanti anni è in missione? Ho iniziato la mia missione nel 1992, poi sono ritornata in Italia nel 2000, mi sono fermata sette anni in Italia, poi sono ritornata nel 2007 di nuovo in Argentina. Vuole condividere con noi qualche momento particolare di questa sua esperienza? Sì, mira, io ho fatto diverse esperienze di missione, sia in Argentina che in Ecuador, però non saprei dire esattamente qual è stata la più eccezionale così. Mi sono piaciute tutte e tutte hanno lasciato un segno nella mia vita, meraviglioso, mi hanno aiutato anche a aprire i miei orizzonti, eccetera. Però devo dire che come missione, per quello che riguarda il modo di pensare che avevo prima di partire, la missione è stata quella di Pacan, dell'Equador, dove ho vissuto a Pacan. È una missione meravigliosa, sì, proprio missione come si intende dire nei nostri paraggi, ecco. In cosa consiste oggi il suo servizio in Argentina? In Argentina ora mi trovo lì in un collegio, che è una missione meravigliosa, stupenda, ecco. Io dico sempre la perla del nostro istituto, perché qui ci sono moltissimi giovani e c'è la possibilità di far tanto bene a questa gioventù. Sono 45 anni, 45 anni che le sorelle operano in questo collegio e ci sono dei bei risultati, ecco, perché vedendo questi giovani quando ritornano, che hanno formato la loro famiglia, ritornano a vedere il loro collegio, è un entusiasmo unico, è un grazie meraviglioso che fanno sempre alle suore, ecco, a tutti quelli che li hanno aiutati. Ringraziamo il suor Giuseppina e il suor Anna Maria. Lascio adesso la parola a Giacomo Biancardi e al suo prossimo ospite. Bene, abbiamo ascoltato la presenza nell'Istituto Figli dell'Oratorio in terra di missione nell'intervista che ha realizzato Paola Granate e adesso parliamo di chi sta compiendo un percorso di vita particolare e cominciamo con la raccontare quando è venuta in contatto con l'Istituto, cosa l'ha colpita. Allora, io ho conosciuto le Figli dell'Oratorio nel 2001 quando dal mio paese, sono originaria di San Felice Circeo, che è in provincia di Latina, mi sono trasferita a Milano perché, mentre completavo gli studi universitari in economia, ho avuto la possibilità di fare uno stage a Milano in asso gestione, nell'associazione del risparmio gestito. A Milano ho conosciuto le suore perché il mio punto di appoggio è stato una comunità di Figli dell'Oratorio che è presente in corso Garibaldi e che offre ospitalità alle studentesse universitarie e alle giovani lavoratrici. Quindi ho avuto la possibilità, stando sul posto, di conoscere Don Vincenzo, le sue suore, il carisma, l'Istituto e maturare in questo contesto anche la mia scelta vocazionale. E quindi cosa l'ha colpita del carisma del fondatore e dell'Istituto? Mi ha colpito la caratteristica della gioia. Don Vincenzo voleva le sue suore, delle suore contente. La gioia io già la vivevo perché essendomi trasferita a Milano, avendo avuto questa possibilità di lavoro, come cristiana già vivevo una gioia abbastanza evidente e secondo me la gioia è proprio la caratteristica di ogni cristiano. Il fatto che Don Vincenzo abbia voluto, abbia scelto come protettore dell'Istituto San Filippo Neri, che è il santo della litizia spirituale, mi è sembrato proprio conforme anche alle mie aspettative verso un cristiano tipo, perché il cristianesimo è proprio gioia. Il fatto che rispondesse così tanto anche a quello che pensavo io relativamente a un cristiano qualsiasi, mi sembrava molto rispondente a quello che... E come si può raccontare alle giovani generazioni, secondo lei, Don Vincenzo Grossi? Allora, innanzitutto, con lo stile di vita proprio delle suore che rappresentano, che portano avanti il suo carisma di litizia spirituale. Nella nostra realtà parrocchiale ci è capitato in questi giorni, prossimi insomma un po' alla canonizzazione, di raccontare Don Vincenzo a partire da un libro scritto su di lui che si intitola Un prete contento. Quotidianamente, un aneddoto della sua vita al giorno, abbiamo notato che ha appassionato molti bambini e tanto che ci hanno anche chiesto alcuni di poter avere il libro. Qualcuno si è identificato un po' anche nel personaggio di Don Vincenzo perché nel caso specifico un bambino di nome Vincenzo ha scoperto attraverso queste letture di avere il suo papà che si chiama proprio come il papà di Don Vincenzo, Baldassarre. Quindi, da un racconto della sua vita, parlando di lui, così, si possono appassionare anche i bambini in età del catechismo, in età scolare e così via. Grazie per questo suo contributo ed ora vi proponiamo un'intervista, una testimonianza da parte di due laici che operano nell'ambito della comunità, della parrocchia di Zelo Bonpersico. Siamo in compagnia di Anna e Marco della parrocchia di Zelo Bonpersico. Anna, come nasce il suo legame con Don Vincenzo Grossi e con le figlie dell'oratorio? Allora, io posso dire che questo legame nasce proprio con la mia infanzia perché nella mia vita c'è sempre stata la presenza delle suori e delle figlie dell'oratorio all'interno della parrocchia di Zelo Bonpersico. Quindi la mia vita è stata caratterizzata dai loro volti e dalle loro presenze e non posso staccare il mio modo di andare, il mio modo di vivere da loro. Allora, appunto, fin dall'infanzia, fin dall'asilo, fin dall'adolescenza, io poi ho avuto anche la fortuna di essere una loro studente perché ho fatto le scuole da loro e quindi il legame è molto forte. Molto forte e molto presente, però è molto vivo. Molto vivo. Non è un legame, non so, per cui si parla al passato. È un legame in cui io parlo al presente. Ho avuto sempre la loro presenza anche in famiglia. Io ho avuto una mamma che è morta a 96 anni ed era fuori testa. E avevo sempre la loro presenza che veniva a trovarla e questo viene fuori proprio dal loro carisma. Dal loro essere all'interno della popolazione in maniera molto relazionale. Il loro modo di creare relazioni ma anche con le situazioni più disastrate e più bisognose. Loro sapevano arrivare e questo è l'insegnamento di Don Vincenzo. Essere, secondo me, è essere nell'ordinario e nel locale anche. Nell'ordinario e nel locale una presenza attiva, una presenza di chiesa che ti porta a fare della vita un capolavoro. Questo io ritengo che sia stato ed è il legame che ci ha unito e ci ha accompagnato sempre. Attualmente come si concretizza, si manifesta questo legame? Allora, io posso dire che nella nostra parrocchia le suore sono state tolte l'anno scorso. Però il loro carisma è rimasto nel popolo proprio. Il popolo che l'ha vissuto e ne sente la mancanza tuttora perché la relazione creata da loro è una relazione che è vitale. Passa nella vita di tutti i giorni, proprio come dicevo prima, nell'ordinarietà. Quindi è straordinaria in questo. sapeva fare legame nel popolo, forse più di tante altre cose, di tanti altri modi, perché si avvicinavano alle persone nelle loro case, nei loro bisogni. Questo per dire anche nell'educazione adolescenziale, nella presenza in oratorio, nella presenza nella parrocchia stessa. Ma loro, non so come dire, sono, questo carisma è il carisma dell'essere nel comune e renderlo straordinario. E loro lo fanno. E noi lo stiamo vivendo ancora. Ne sentiamo una mancanza grandissima perché sono ancora un punto di riferimento nella nostra vita. E si cerca di portare avanti quello che si può. Ma quando viene a mancare una presenza così forte, il primo momento è di sbandamento. Cioè, e adesso cerchiamo di riavere questi contatti con la casa madre per poter continuare a vivere questo carisma all'interno nostro. Marco, qual è appunto l'eredità che è stata lasciata dalle figlie dell'oratorio a Zelo Bonpersico e come poi continua questo cammino? Ma è un'eredità complessa, simpatica e anche coinvolgente, avvincente. Complessa perché la distanza di non averle presenti ci obbliga ad alzare il telefono, prendere la macchina, usare internet per avere comunque ancora questo contatto. Ho un problema con dei ragazzi adolescenti, chiamo suor Rita, suor Claudia, suor Luisa, dammi un consiglio, tu cosa faresti? E loro si cimentano in questa difficoltà perché un conto è conoscere realmente le persone, il luogo, l'ambiente, ti possono dare delle soluzioni significative. Un conto è ragionarle un po' in modo astratto e quindi ti danno un po' più dei consigli, poi dici guarda tu, vedi tu, se si comportano in questo modo, se hanno questo atteggiamento, allora puoi adottare altre situazioni. E per noi è una risorsa comunque grande perché a volte siamo chiamati a fare dei servizi in parrocchia e non siamo comunque preparati ad affrontarli o ad affrontare l'imprevisto. Mentre loro con la loro comunque storia, anche le loro esperienze molteplici, la missione, i ragazzi, l'infanzia, gli anziani, le famiglie, ti passano tante loro esperienze e tanti loro contenuti. E la cosa che a me più loro danno anche tutte le volte e questo continuo alla fine della telefonata è, mi raccomando, però ricordati cerca di capire quali sono le esigenze stando con loro, stando sempre insieme a loro, cioè non guardarle un po' dal piedistallo, dalla cattedra, ma essendo uno di loro. Allora riesci a essere accettato da loro e riesci a creare delle relazioni vere. Questa è la cosa che loro hanno lasciato al nostro paese e noi portiamo avanti con le nostre difficoltà, ma con il legame con casa madre, con molte di loro nelle varie realtà cerchiamo comunque di alimentare, alimentare, questo sì. Bene, ringraziamo Marco e Danna. Ricordiamo appunto che il 18 ottobre il abbiato Vincenzo Grossi sarà proclamato santo a Roma e questo dopo il riconoscimento del miracolo avvenuto nel 1990. Ma per questo lascio la parola a Giacomo Biancardi. Bene, dopo aver sentito questa testimonianza che Paola Granata ha raccolto con due laici che operano in quelli a Zelo Bonpersico, ritroviamo Suora Marilena Borsotti perché ora parleremo del miracolo, di quello che è accaduto, il riferimento innanzitutto a quando è avvenuto il miracolo. Il decreto che ha riconosciuto il miracolo che ha aperto le porte alla canonizzazione di Don Vincenzo Grossi è del maggio 2015 ma è la conclusione di un lungo itinerario di verifica di una guarigione che si è manifestata, si è realizzata negli anni 90 a vantaggio di una bambina, di una neonata, più precisamente di pizzighettone, affetta da anemia eritropoietica di tipo 2. Di fronte alle condizioni estremamente preoccupanti della bambina che aveva manifestato dei seri problemi di salute fino a far temere della sua anche sopravvivenza e con la prospettiva per cercare di darle delle condizioni di vita migliori del trappianto di midollo, i genitori, i nonni e gli altri parenti hanno intensamente pregato Don Vincenzo Grossi, si sono rivolte alla sua intercessione gradualmente la bambina è migliorata fino a raggiungere una completa guarigione. E da lì appunto è partito poi l'iter per il riconoscimento di questo miracolo, un percorso che avrete seguito con una certa trepidazione immagino. Certo, da lì è iniziato dopo alcuni anni è partito l'itinerario appunto di verifica di questa guarigione in seguito anche alla devozione che hanno manifestato i genitori di questa bambina che periodicamente si ricavano qui a Lodi per visitare e ringraziare Don Vincenzo per questa grazia appunto ricevuta. Da lì è partito ufficialmente anche l'itinerario per valutare se ci fossero i presupposti di una guarigione miracolosa. L'itinerario è stato piuttosto lungo, molto elaborato e anche molto preciso nei suoi dettagli fino appunto a giungere alla dichiarazione ufficiale di una guarigione miracolosa per intercessione del beato Vincenzo Grossi. E la bambina che ha beneficiato di questo miracolo oggi quanti anni ha? Oggi ha 25 anni è una giovane donna lavora nel campo educativo è piena di vita è piena di sogni per la propria esistenza per la propria realizzazione e in modo particolare appunto i suoi genitori sono costanti nel riconoscere di avere ricevuto un grande dono dal Signore per intercessione di Don Vincenzo e continuano a percepire la sua protezione e la sua intercessione. Grazie anche per questo contributo e noi restiamo idealmente a Pizzighettone perché siamo andati a intervistare Don Enrico Maggi che è parroco in questa località che è dato in Natalia Don Vincenzo Grossi e con lui abbiamo parlato dell'attesa di questa comunità per questo evento così importante. La canonizzazione di una persona è sempre un fatto non banale anche per chi magari non è particolarmente attento alla vita della Chiesa. A livello di comunità cristiana qui siamo una unità pastorale di cinque parrocchie stiamo cercando di preparare innanzitutto nella preghiera e nell'ascolto di ciò che questo evento dice alla nostra vita e alla vita della Chiesa ecco ma ci troviamo per pregare insieme lo faremo anche prima della canonizzazione con le parrocchie a noi vicine in un momento di adorazione serale e zonale che coinvolge tutte le parrocchie della nostra zona pastorale e ci stiamo preparando anche cercando di informare soprattutto le persone perché ci rendiamo conto che un prete dell'Ottocento proposto dalla Chiesa come modello a tutti quanti i fedeli certamente è una provocazione ma necessita anche di essere avvicinato alla vita di oggi soprattutto nelle intuizioni della sua vita questo prete ha svolto una vita normale ha servito una comunità cristiana è vero che ha fondato anche un istituto religioso le figlie dell'oratorio ma certamente la sua spiritualità le sue intuizioni vanno anche aggiornate e riproposte alla conoscenza delle persone un percorso di riscoperta di riappropriazione di quelle che sono state le intuizioni di Don Vincenzo Grossi e un percorso che ovviamente non terminerà anzi con la giornata del 18 di ottobre stiamo infatti predisponendo alcuni appuntamenti il primo sarà il 7 di novembre che è proprio la memoria liturgica di San Vincenzo Grossi e coinvolgerà in modo particolare la parrocchia dove lui ha svolto il ministero per dieci anni cioè la parrocchia di Regona che fa parte dell'unità pastorale di Pizzighettone e per quell'occasione avremo la grazia di avere la presenza anche delle sue spoglie mortali verranno traslate da Lodi alla parrocchia di Regona ci sarà un momento di veglia notturna per la parrocchia e anche per tutti quanti i fedeli la celebrazione solenne dell'Eucaristia la sera presieduta dal Vescovo di Cremona ma le iniziative che ci interessa proporre vorrebbero anche interessare incuriosire anche un audience non troppo praticante però ugualmente magari interessata a conoscere che cosa significhi la santità di una persona magari anche nel confronto con la cultura odierna e su questo ci stiamo preparando per valorizzare altri momenti legati sempre alla figura di San Vincenzo Grossi per esempio la data del suo battesimo che è avvenuto proprio in questa chiesa di San Bassiano la ricorrenza cade in marzo e stiamo preparando un evento pubblico qui speriamo di poter proporre anche una riflessione interessante per chi non è più strettamente vicino alla vita della chiesa tornando alla giornata del 18 di ottobre una delegazione della vostra comunità ovviamente si riecherà a Roma sì abbiamo organizzato due forme di pellegrinaggio una insieme con la diocese di Cremona parteciperemo al pellegrinato diocesano e anche un'altra forma un po' più agile riservata ai ragazzi o ai giovani che vogliono partecipare che però saranno ugualmente presenti in piazza San Pietro la mattina del 18 abbiamo dunque ascoltato le parole del parroco di Pizzighettone e di come questa comunità sta vivendo la vigilia di questo grande momento questo grande appuntamento del 18 di ottobre Sorrita e voi come lo state vivendo? Stiamo vivendo questo momento diciamo come attesa gioiosa per la nostra famiglia religiosa per ciascuna figlia dell'oratorio e chiaramente è una gioia che siamo chiamate a vivere con tutta la Chiesa Una gioia tenendo sempre a mente questa frase che vediamo anche riportata qui alle nostre spalle la via è aperta e bisogna andare Sì la via è aperta e bisogna andare è la frase pronunciata dal fondatore poco prima di morire e potrebbero essere tanti messaggi da cogliere in questo momento credo che è importante cogliere proprio la gioia di andare il fondatore è diventato santo e invita ciascuna figlia dell'oratorio a diventare santo con lui lui che ha aperto la via lui che ha seguito la via Gesù Cristo dice ad ogni figlia dell'oratorio siate fedeli alla sequela di Cristo nello stile della gioia e dell'unità e mi piace ricordare a proposito sempre una frase del fondatore che raccomandava alle suore vivete le une vicine alle altre come le corde di uno strumento vivete le une nelle altre per simpatia e per unità di pensieri e di affetti credo che oggi la vita religiosa è chiamata davvero a dare questa testimonianza essere segno luminoso nella chiesa e dove è chiamata a vivere a testimoniare soprattutto l'unità la gioia e la certezza che siamo in cammino e questo cammino è da percorrere nella quotidianità nella vita di tutti i giorni come faceva Don Vincenzo grazie ancora per questa testimonianza di chiusura di questo nostro duplice appuntamento nelle trasmissioni speciali di Laos dedicate a San Vincenzo Grossi e ora l'invito ovviamente è indirizzato al prossimo 18 di ottobre Paola esatto il prossimo 18 di ottobre per condividere insieme questa grande festa e ringraziamo ovviamente le figlie del oratorio per la loro collaborazione e l'ospitalità e Laos tornerà invece la prossima settimana e la prossima settimana